mi sono arrivati sub finalmente però lo comprate su ebay non l'ho comprate su su sto ammazzando il cazzo adesso apriamo questo pacco come si può vedere c'è 12 kg di pacco faccio vedere il mio acquisto nuovo lo apro con questo si ho tentato veramente bene arrivo dalla germania ragazzi questa è la scatola la scatola vediamo per bestia una scatola dentro una altra scatola oh mamma mia questo deve essere un sub ragazzi ecco il mio sub andate qua questa è la papardella lo sub per casa tra le casse che sono quelle lì queste sono ora queste sono da 400 500 watt 500 watt e sparata come potete vedere questa è la calamita e questo è lo sub la membrana faccio solo vedere quelle lì dovrebbero andare dentro qua nella cassa come si può vedere qua già tutto sparato sa 4000 watt in tutto col sub fa 2000 watt 1000 watt l'una e quelli dovrei metterli poi qua dentro se ci sta come si può vedere questa papardella arrivano dalla Germania come vi ho detto ci sono dei dei sub questa ciambella da casa e adesso dobbiamo poi montarla comunque ragazzi poi lo monterò adesso non ho perché non ho tempo perché sono appena arrivato dal lavoro e mi sono appena arrivati oggi e qua c'è l'altra come si può vedere la scatola c'è l'altra e due papardelle poi dovrò comprare poi l'amplificatore perché questo qua non lo regge non riesce a reggerlo e questo è tutto ciao ciao a tutti che vi interessa iscrivetevi lasciate un like e un link un link su e condividete mi raccomando ciao ciao a tutti